Le colline umbre, a volte in una verde immutabile, nascondono segreti che il tempo non è riuscito a seppellire del tutto. A Narni, borgo antico e fiero, il respiro della storia si mescola a quello dei fantasmi che popolano le sue pietre. Questo è un luogo dove il passato non è solo un ricordo, ma una presenza viva, pulsante, pronta a manifestarsi a chiunque abbia il coraggio di scendere nei suoi sotterranei, qui sotto la superficie apparentemente placida di un paese medievale si scella un mondo oscuro, fatto di prigioni, torture e misteri che sfidano la comprensione, e tra questi un nome spicca su tutti. Giuseppe Andrea Lombardini, il caporale della Santa Inquisizione, la cui anima, tormentata, sembra ancora alleggiare in quelle stanze di pietra fredda. Narni, con le sue strade acciottolate e i suoi edifici storici, potrebbe facilmente ingannare il visitatore frettoloso. È un luogo che invita la contemplazione, dove il tempo sembra essersi fermato in un'epoca di cavalieri e dame, di fede e di superstizione, ma sotto la sua superficie serena si nasconde una realtà ben più inquietante, una realtà che solo pochi osano esplorare. Era il 1979, quando un gruppo di giovani, armati di curiosità e incoscienza, scoprì un passaggio nascosto sotto un antico convento. Un pertugio nel muro, celato da secoli, si aprì come una porta temporale, rivelando un labirinto di corridoi e stanze dimenticate. Ma ciò che trovarono non fu solo un pezzo di storia dimenticata. Fu l'ingresso in un mondo di tenebre, un mondo dove il dolore e la sofferenza erano stati scolpiti nelle pietre stesse. Questi giovani, che inizialmente avevano visto la loro scoperta come un'avventura, si resero presto conto che ciò che avevano trovato era qualcosa di molto più sinistro. Attraversarono corridoi umidi e soffocanti, le cui pareti sembravano sussurrare storie di tormenti passati. Si aprirono su stanze che avevano ospitato prigionieri, uomini e donne accusati dei peggiori crimini contro la fede e alla fine del loro viaggio sotterraneo trovarono quella che sarebbe diventata nota come la Sala dei Tormenti, un nome che già da solo evoca immagini di orrore. Qui, fino alla metà del XVIII secolo, si riuniva il Tribunale della Santa Inquisizione, un luogo dove la giustizia divina veniva amministrata con una ferocia che solo l'uomo è capace di infliggere in nome di Dio. Era qui che i sospettati venivano interrogati, torturati, costretti a confessare crimini che spesso non avevano commesso. Le grida dei dannati sembravano ancora riecheggiare in quegli spazi stretti, le loro anime imprigionate in un ciclo eterno di sofferenza. Ma in una di queste celle una storia diversa si era scritta, una storia fatta di resistenza, di sfida, di mistero. Qui fu rinchiuso Giuseppe Andrea Lombardini, caporale delle guardie del Santo Uffizio di Spoleto. Lombardini non era un prigioniero come gli altri, era stato accusato di tradimento per aver aiutato un compagno a fuggire, fu arrestato e condannato a languire in quelle fredde mura. Ma Lombardini non si arrese al suo destino, al contrario scelse di lasciare un segno, un messaggio per chiunque sarebbe venuto dopo di lui. Utilizzando frammenti di cocci e altre pietre taglienti, iniziò a incidere le pareti della sua cella. Ciò che emerse non fu solo una testimonianza della sua sofferenza, ma un'opera d'arte esoterica che ancora oggi sfida gli studiosi. Le pareti della cella di Lombardini sono coperte di simboli, disegni e iscrizioni che parlano di alchimia, numerologia e credenze mistiche. Il sole e la luna, il gallo con la coda di drago, l'albero della vita, animali alati e figure di santi. Tutti questi simboli sono stati interpretati come un racconto spirituale, un percorso interiore che Lombardini intraprese durante i suoi ultimi giorni. È come se avesse voluto lasciare un messaggio nascosto, un codice segreto che, se decifrato, avrebbe rivelato i segreti dell'universo, o forse solo la sua anima tormentata. La presenza di simboli riconducibili all'ordine dei Templari e alla massoneria ha spinto alcuni a credere che Lombardini fosse più di un semplice caporale. Studi recenti hanno suggerito che potrebbe essere stato un membro della massoneria, iniziato agli antichi misteri proprio dal compagno che aveva aiutato a fuggire. Questa teoria aggiunge un ulteriore strato di mistero alla sua storia, facendo di lui non solo una vittima della Santa Inquisizione, ma anche un uomo che sfidò apertamente l'autorità religiosa del suo tempo, utilizzando le stesse armi spirituali che l'Inquisizione cercava di sopprimere. Ma c'è di più. Si dice che la cella di Lombardini non sia solo un luogo di storia, ma anche di presenze. Alcuni visitatori hanno riferito di aver percepito strane energie, di aver sentito sussurri nelle orecchie, di aver visto ombre muoversi nelle stanze oscure. Sono fenomeni che molti attribuiscono alla suggestione, ma c'è chi giura che l'anima di Lombardini non abbia mai lasciato quel luogo. Forse è ancora lì, a vigilare sui suoi segreti, a proteggere il messaggio che ha inciso con tanta cura. E mentre Narni, con i suoi palazzi nobiliari, le chiese antiche, le piazze silenziose, continua a mostrarsi al mondo come un tranquillo borgo medievale, chi conosce la sua storia sa che sotto questa facciata si scela un cuore oscuro, un cuore che batte nei sotterranei del convento, tra le celle dimenticate e le stanze di tortura, dove l'ombra di Giuseppe Andrea Lombardini si aggira ancora, a guardia di un segreto che forse nessuno scoprirà mai del tutto. Il destino di Lombardini rimane avvolto nel mistero, così come i significati esatti dei simboli che ha lasciato. È un enigma che sembra destinato a rimanere irrisolto, un puzzle che sfida la comprensione umana. E mentre le leggende continuano a crescere, alimentati da nuove scoperte e da racconti di strani fenomeni, Narni rimane un luogo dove il confine tra il passato e il presente, tra il reale e il sovrannaturale, è sottilissimo, quasi inesistente. Un luogo dove il tempo, con l'anima del caporale, non ha mai davvero smesso di scorrere, e dove ogni pietra, ogni simbolo, ogni sussurro nelle tenebre, racconta una storia che aspetta solo di essere ascoltata.